la benedizione speciale materna nel nome del padre del figlio e dello spirito santo siamo tutti figli di dio ogni uomo è mio fratello ogni donna è mia sorella ave o maria no 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 ave o maria no ave o maria no ognuno ha il suo credo noi siamo qua per difendere Gesù Cristo il Signore non entriamo? fermi 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 onde di care onde fermi un attimo perché questo lo dobbiamo dire e doveroso ve lo diciamo onde evitare incidenti diplomatici noi abbiamo chiesto a tutti i rappresentanti e membri di confessioni religiose cristiane di venire qui in piazza con noi perché noi abbiamo un'unica radice che è Cristo Gesù e noi siamo qui per difendere l'immagine e per difendere il nostro credo cristiano è ovvio che siamo insieme cristiani evangelici cattolici cattolici normali cattolici ortodossi ognuno ha una dottrina ma noi crediamo che la radice del nostro credo è una pertanto vi ringraziamo vi ringraziamo veramente dal profondo del cuore un abbraccio